Bloom, che ti succede? Non ti senti bene? Io non riesco a capire. C'è qualcuno. Ho avverto una presenza oscura. Una presenza? Ma dove? La sento nella scuola. Qualcuno è penetrato ad Alfea. Valtor! No, Bloom. Non può essere Valtor. Guarda! Lo so, ma io sento la sua presenza attraverso la fiamma del drago e vi dico che lui è qui. Bloom, stiamo correndo a vuoto! Fidati, so quello che faccio. Tra me e Valtor esiste un legame e so dov'è adesso. Ci siamo. Fra poco i potenti sortileggi di Alfea saranno finalmente miei. Fermati, Valtor! Bloom, sei davvero una fata in gamba. Sta fermo. Non ti avvicinare agli incantesimi o useremo i nostri poteri contro di te. Ah, sì? E pensate di riuscire a fermarmi? Oh! Oh! Ciao! Ciao! Grazie.